io! 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 ma non ho fatto! io con l'ho fatto! Tutto male, tutto male veramente, tutto male, tutto male, tutto male, adesso ce l'annullano ovviamente, adesso ovviamente ce l'annullano, fallo di Ibra, fallo di Furlani, adesso ce l'annullano, guarda la, guarda la che si sta già preparando, guarda, 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 lo stanno già preparando guarda 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 che ha detto che è successo con questi con questi basta che respiri non va bene bravo ce l'ha dato per miracolo ce l'ha dato per miracolo non abbiamo fatto niente niente questo è mai pulito ma non abbiamo fatto niente un'altra parte 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 guardali 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 come si vanno a casa zitti orecchie basse a casa a strisciare siete andati per quello dovete fare solo quello zitti muti sesta e gabbia sesta e gabbia sesta e gabbia quando gabbia quando gabbia fatto il gol del concepimento che si vedrà tra nove mesi ero convinto che avrebbe dato un rigore tra il 95esimo e il 96esimo ero convinto di questo ma Gravina ha omologato il risultato la Bodi l'ha omologato la Russa l'ha omologato Infantino l'ha omologato la Moratti l'ha omologato Sala l'ha omologato eh Ratti 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 che non siete altro Ratti Ratti nullità siete nessuno vivete grazie a noi siete nessuno siete dei parassiti Reinders è poesia Reinders è poesia se Abraham diventa un po' più concreto vi demolisce quest'anno in questa stagione se capiremo che Leao quando stufa deve uscire poi faremo i conti se Emerson Royale non supera il centrocampo e fa il suo potrebbe essere un giocatore di calcio se ci mettiamo in campo come si deve se stiamo equilibrati se facciamo quello che sappiamo fare se facciamo cose logiche non ce n'è per nessuno in questo paese dove non si gioca calcio dove c'è solo anticalcio non ce n'è per nessuno piedi a terra piedi a terra che abbiamo vinto contro poca roba stasera piedi a terra piedi a terra andiamo a fare la doccia e mettere la sveglia che tra un paio d'ore suona a casa zitti e muti e non posso dirvi altro pubblicamente a casa mi fate pena grazie a tutti grazie a tutti